10 chilometri di piste ciclabili, 2 milioni e mezzo di euro il costo totale, 1 milione e mezzo i fondi che arriveranno nel campo sanpierese dal Cipe. Vedranno finalmente la luce tratti di pista ciclabile lungo il Tergola, tra Campo d'Arsego, San Giorgio delle Pertiche e Santa Giustina in Colle, la pista tra Campo San Piero e Massanzago, lungo l'Estrelle, interventi nel sistema ostiglia tra i comuni di Piombino d'Ese e Trebaseleghe. Un contributo importante ottenuto grazie alla regione che porterà in tutto il Veneto la considerevole cifra di 13 milioni di euro.